Bentornato sul canale, io sono Elena Lucia, sono una laureanda in giurisprudenza, mi laurerò a fine ottobre 2020 e con questo video voglio darti una mano se sei indeciso, se non sai si iscriverti a giurisprudenza perché magari non conosci qualcuno e non sai a chi scrivere, non sai a chi chiedere con questo video voglio darti qualche indicazione, qualche consiglio sul perché dovresti scegliere giurisprudenza Prima di tutto però ti ricordo che su questo canale ogni sabato nascono nuovi video a tema università, mondo del lavoro e le cose che mi appassionano dal punto di vista di una giurista mi trovi anche su Instagram, io rispondo a tutti, ci metto un po' ma rispondo a tutti e niente direi che possiamo iniziare Sempre con mio fido quadernino, dico quelli che ci ha ragionato, ci ha riflettuto e questa è tutta le cose che oggi vi racconto sul perché scegliere giurisprudenza faccio anche un altro video sul perché non scegliere giurisprudenza queste sono indicazioni che io posso dire di aver vissuto su di me quindi quello che io andrò a dire è frutto della mia esperienza perché scegliere giurisprudenza? Allora giurisprudenza sei indeciso, io non sono qui a convintarti che dovresti iscriverti a giurisprudenza perché giurisprudenza è una facoltà impegnativa per cui se non ti piace, non ti incuriosisce nemmeno un po' il mondo del diritto lascia stare, cioè lascia stare, chi te lo fa fare cioè prenditi un'altra triennale in qualsiasi altra cosa o una magistrale in qualsiasi altra cosa ma se non te ne frega niente di capire come funziona il sistema lascia stare e questo è un consiglio che però volevo darvi nel video dei motivi per cui non fare giurisprudenza però adesso ritorno allora giurisprudenza che cosa ti dà di utile? il modo, allora giurisprudenza ti apre il cervello in quattro nel senso che improvvisamente io mi sono resa conto mi sono resa conto della realtà in cui sono o perlomeno non partendo di avere la verità in tasca però di più sicuramente di quello che ero cinque anni fa dopo cinque anni posso dire di essere una persona completamente diversa diversa perché ho maggiore consapevolezza del sistema attorno a me uno dei motivi per cui io consiglio giurisprudenza è anche perché sei in grado di difenderti quindi non solo conosci il sistema ma puoi anche difenderti da esso non lo so, io ho sempre avuto questa cosa di voler essere in grado di non so come spiegarmi di poter essere in grado di capire quello che mi succede e di poter reagire quindi penso che probabilmente l'avvocato abbia questi strumenti abbia le conoscenze ma anche un semplice lavorato di giurisprudenza abbia le conoscenze per poter capire come funziona il mondo e sulla base di questo agire ed incidere su di esso un'altra cosa che ti insegna molto giurisprudenza e che è una skills molto utile nella vita è imparare a organizzare e a gestire molte cose da fare anche impegnative e però organizzandone a gestire quindi il tempo un'altra cosa che ti insegna molto è approfondire perché quando noi studiamo delle materie come le procedure o civile penso approfondisci il singolo problema e lo vedi da dieci punti di vista diversi e c'è una dottrina, una parte della dottrina che dice una cosa un'altra parte della dottrina, la dottrina sono i professori un'altra parte della dottrina che la dice in un altro modo ancora un'altra parte della dottrina invece vede quella cosa dal punto di vista e per non parlare della giurisprudenza giurisprudenza intendo cioè le sentenze dei giudici e in particolare poi quelli della Cassazione che fanno appunto non scuola però comunque indicano come viene applicato di fatto il diritto e come viene interpretato dalla magistratura e questo ti permette di ti allena ad approfondire le cose un po' come quando uno studia latino e greco ma soprattutto il greco alle superiori ti allena a stare lì a ragionarci, a inchiodarti lì e a cercare di risolvere il problema sono materie che ti permettono di approfondire di acquisire questa capacità per cui anche nei problemi quotidiani cerchiamo di andare a capire il perché, il per come approfondire appunto i problemi di tutti i giorni un'altra cosa che mi dicono vabbè non potevi non fare giurisprudenza oppure si vede che fai giurisprudenza è la parlantina questo perché tutti gli esami sono orali tutti gli esami magari hanno una parte scritta ma tutti gli esami comunque sono orali per cui dovete essere in grado di spiegare al professore e di spiegarvi col professore e molto spesso il professore parte da una domanda molto generica per arrivare nel punto a chiedervi il dettaglio ovviamente prima di arrivare al dettaglio voi dovete essere in grado di fare una panoramica generale dell'istituto che vi viene richiesto e anche perché, dove è collocato quindi dovete essere in grado di costruire un discorso sul tema che appunto vi viene richiesto questo per tutti gli esami quindi è inevitabile che alla fine dei 5 anni voi abbiate acquisito un linguaggio tecnico da un lato dall'altro lato siate molto più sciolti nel parlare diciamo così soprattutto, e questo si impara facendo fatica ogni giorno studiando il metodo migliore per studiare secondo me la giurisprudenza è ripetendo a voce alta perché bisogna proprio acquisire il modo di parlare il modo di presentarsi il modo di esporre le proprie idee il modo di esporre i contenuti che si sono studiati per quanto riguarda lo sbocco e le sbocche lavorativi non mi soffermerò particolarmente perché ancora perché ne ho già parlato in un altro video ancora ad oggi la laurea in giurisprudenza è una laurea molto versatile certo non possiamo pensare che sia come un tempo per cui un laureato in giurisprudenza sicuramente avrebbe fatto una ferita brillante però da qui a dire che la laureata in giurisprudenza non trova lavoro è un po' difficile io conosco persone che pur non essendosi laureate magari dei tempi oppure non sono laureate in maniera super brillante comunque hanno trovato lavoro di lì a poco che sia al di fuori dei canali tradizionali come praticantato questo è una verità molti hanno trovato in azienda che sia nei corsi pubblici anche questa è un'altra verità perché soprattutto adesso con la questione Covid lo Stato italiano si accenderà a assumere diverso personale d'altronde la pubblica amministrazione ha bisogno abbiamo la pubblica amministrazione più vecchia a livello europeo e questo incide tantissimo poi anche sulla funzionalità ovviamente non perché quelli vecchi non siano capaci c'è bisogno di un equilibrio chi ha esperienza con l'energia di un giovane e con la voglia di fare che magari un giovane ha e infine un'altra cosa molto importante che ti insegna e questo secondo me è una delle cose più importanti ti insegna che non c'è una verità sola ti insegna a mettere in discussione le cose ti insegna a dire che sì, quella è la regola però la regola può essere interpretata e vista da punti di vista diversi e applicata nel caso concreto in modi diversi questo non significa che tutto è relativo che tutto è possibile questo significa che all'interno di determinati paletti c'è un range ci sono 50 subature di grigio per dire così di possibilità per cui ti insegna a ascoltare in maniera critica cioè critica nel senso in grado di capire e di riflettere e di capire che la posizione quello che si pensa può essere giusto per certe cose può essere sbagliato per altre e che comunque ti allena proprio a mettere in discussione quello che appunto credi che magari sia vero e questo è un esercizio molto importante anche di secondo me di elasticità mentale di capire che a volte cose che ci sembrano delle ovvietà non sono poi così ovvie ecco, questi sono i motivi per cui io consiglio una laurea in giurisprudenza partendo però dal fatto che comunque devi essere un po' curioso devi interessarti capire il sistema come funziona il sistema dal punto di vista giuridico perché io secondo me molte altre lauree ti insegnano a capire come funziona il sistema mondo, penso per esempio le lauree scientifiche o una medicina come una non lo so un'ingegneria anche queste ti insegnano sono alla fine in queste lauree studi comunque delle regole regole che magari però sono naturali in questo caso sono regole le nostre sono regole sociali passatemi il termine anche se non è magari molto corretto sono regole che appunto disciplinano lo stare insieme e la collettività ecco ragazzi spero vi sia stata utile se avete qualche altro consiglio lasciatelo qui sotto potrà essere utile a qualcun altro che vede il video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi